Ciao a tutti, Dainese mi ha chiesto di raccontare l'evoluzione della protezione del motociclista e l'aria è stata una delle intuizioni più importanti di Air. Questo è Smart Jacket, finalmente la sicurezza alla portata di tutti, tutti i giorni con tutti i tipi di moto o di scooter, è sicuro, è versatile, è smart e costa il giusto. Qui ci sono 25 anni di ricerca e la stessa tecnologia che protegge i piloti dei Gran Premi, che vuol dire nessuna connessione con la moto, algoritmo sofisticatissimo, la capacità di leggere in tempo reale il pericolo e attivare soltanto quando è necessario. Siamo qui alla terza generazione della piattaforma di Air, che vuol dire milioni di dati raccolti e una capacità straordinaria di leggere le situazioni di pericolo, che siano la scivolata, il disarcionamento, il tamponamento, addirittura per la prima volta l'impatto da fermo. Voi siete fermi e da qualunque parte arrivi il pericolo il sistema è in grado di attivarsi e proteggervi. Ci sono sette sensori, sei più il GPS e la centralina che è capace di leggere mille volte al secondo tutti i dati e poi attivare il sistema soltanto quando è necessario. Il cuore di Smart Jacket è lo Shield, il sacco airbag brevettato da Inese, con struttura a microfilamenti interni, che garantisce il gonfiaggio omogeneo e controllato su tutta la superficie. Smart Jacket protegge e avvolge il corpo, protegge busto e schiena, con la stessa protezione che garantirebbero sette paraschiena e senza l'ingombro del paraschiena. Proprio perché non ha elementi rigidi nella sua struttura, può essere piegato comodamente e sistemato dentro uno zaino oppure nel bauletto dello scooter. Lo potete indossare come volete, sopra o sotto la giacca, sopra la felpa, sotto l'impermeabile. Smart, ve l'ho detto, è sicuro e versatile. Così lo attivo, 26 ore di autonomia con la batteria lunga durata, tempi di ricarica brevi come un telefono. È sicuro, è versatile, è comodo, è leggero. La tecnologia è impermeabile al 100%. È prodotto in due modelli, uomo, donna, 6 taglie per ciascuno. Costa 600 euro. La sicurezza portata di tutti, mai più senza! Quindi risselo? Missa! Well, la nostraáveis Keys��! La baba è questa Ave Maria, Cosa ha compörs fuori con la batteria McDermin Grazie.